Non si è fermato all'alte degli agenti il 34enne di Real Monte che due notti fa ha investito e ucciso l'eritreo di 20 anni, ospite del centro di accoglienza per migranti di Siculiana, che si era allontanato cercando di fuggire. A renderlo noto è stata la questura di Agrigento che ha ricostruito i momenti della tragedia in un incidente che ha coinvolto anche quattro agenti di polizia, tutti finiti in ospedale. Uno di loro, ferito alla gamba, è stato sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza. Gli altri tre poliziotto hanno riportato fortunatamente ferite più lievi, giudicate e guaribili, al massimo in 15 giorni. Poco prima che l'auto falciasse le persone, poliziotti che si erano accorti dell'alta velocità con la quale il Real Montese stava procedendo, avevano intimato lo stop. Intimazione non rispettata, addirittura subito dopo l'incidente il conducente dell'auto ha tentato la fuga ma è stato immediatamente bloccato e condotto all'interno della struttura Villa Sicani ed altri agenti del medesimo reparto mobile. Poi dopo i rilevi effettuati sia dai poliziotti sia dai carabinieri che nel frattempo sono intervenuti, è scattato l'arresto con l'accusa di omicidio stradale e fuga del conducente. Il migrante deceduto di vent'anni di nazionalità eritrea era sbarcato a Lampedusa nelle settimane scorse. A Villa Sicani avrebbe dovuto completare un periodo di quarantena con sorveglianza sanitaria. Il questore di Agrigento, Rosa Maria Irace, ha garantito che la situazione attualmente seguita con la massima attenzione è che in tutte le strutture di accoglienza dalla provincia di Agrigento viene impiegato un consistente numero di operatori di polizia per i servizi di vigilanza. Dichiarazione quella del questore che fa il paio con quella del ministro dell'interno Luciano Lamorgese che ha anche fatto notare come tragedie come quella della morte del migrante investito da un'auto non debbano più ripetersi. Questione che sul piano politico ha visto intervenire deputati del Movimento 5 Stelle a Lars che hanno parlato di strutture di accoglienza totalmente insicure e inadeguate, non all'altezza di un paese civile e che ritengono che il premier Conte debba valutare se chiedere alla ministra Lamorgese di mettersi da parte. Ritengono i parlamentari pentastellati, non è superfluo ricordare che il governo nazionale vede il Movimento 5 Stelle azionista di maggioranza che il ministero dell'interno non debba essere gestito da un tecnico ma evidenziano comunque anche come la gestione del fenomeno da parte dello stesso governo della regione sia stata fallimentare, ipocrita e populista. A difendere la ministra è stato il sindaco dell'Ampedusa Salvatore Martello ad opinione del quale le strumentalizzazioni politiche sul tema dei migranti sono sbagliate da qualunque parte esse provengano e che il ministro Lamorgese ha mostrato impegno e competenza. La tragedia di Siculiana ha visto anche l'intervento del sindacato di polizia SILP CGL che ha ricordato come da tempo venga costantemente denunciata l'inadeguatezza del centro di accoglienza Villa Sicania di cui viene chiesta la chiusura. Il centro, afferma Vito Alagna, segretario del SILP Sicilia, è una struttura alberghiera il cui accesso si affaccia direttamente sulla strada statale 115 e dunque non adeguato per essere destinato all'attuale uso, ovvero un centro hub che oggi, in piena era Covid, pur mantenendo le sue funzioni di raccolta per il transito verso le ricollocazioni, è anche un centro di isolamento e osservazione sanitaria. Alagna sottolinea che nel centro, come in tutti gli altri analoghi sparsi per la Sicilia, le donne e gli uomini delle forze dell'ordine sono costrette ad operare in condizioni di estrema precarietà, senza regole di ingaggio certe e senza alcuna tutela dal punto di vista di sicurezza e di luoghi di lavoro. SILP, che dunque sollecita un'assunzione di responsabilità, noi, sostiene il sindacato di polizia, ospieghiamo vivamente che i vertici del Dipartimento della pubblica sicurezza vogliono in essere tutti gli sforzi opportuni per gestire tutte le fasi successive e la prima accoglienza di queste persone che devono essere messe nelle condizioni di poter vivere dignitosamente nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, anche in tempi di pandemia. Chiediamo che si rivedano nell'immediato le regole sull'immigrazione regolare, ovvero sui flussi immigratori irragionevolmente chiusi e la gestione dell'ingresso irregolare in Italia e quindi in Europa. Chiediamo, conclude il SILP, nuove regole nell'immediato che siano però propedeutiche ad una riforma vera, profonda ed europea.